Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su LKING TV Benvenuti in questo cello mi manca dell'album Champions League 2018-2019 Come vedete qui c'è una busta che è uno scambio che ho effettuato Anche un po' tardi non so se ho trovato già qualche figurina o no Comunque adesso l'apriamo Questo scambio non è stato fatto né su Instagram né su Facebook Quindi non è stato fatto con qualche iscritto Ma soltanto uno scambio così l'ho fatto su un sito che poi se vi interessa vi dirò o farò un video In cui vi spiegherò come funziona questo sito per gli scambi diciamo così Che devo dire funziona molto ma molto bene Io mi ci trovo molto bene Puoi lasciare le tue liste mancanti e doppioni e cercare utenti che poi possono scambiare con te Chissà se un giorno riuscirò a fare un'app di LKING TV Magari proprio a proposito a cercare di fare magari degli scambi tra utenti che seguono il mio canale Adesso vedremo se riusciremo un giorno a effettuare questa cosa Intanto andiamo avanti e apriamo questa busta C'è un altro pacchettino E troviamo Odriozzola Del Real Madrid Sono già in ordine numerico Quindi io non le mischio Anzi facciamo così Iniziamo dall'ultimo così mi rimangono in ordine Orosso Whisky Nakatomo Che ha giocato nell'Inter Penso che molti di voi se lo ricorderanno Puy Line Nel Club Bruges Piatov portiere dello Shakhtar Donetsk Matuidi della Juventus Bailly del Manchester United Belfodil Skopf E Odriozzola Che l'abbiamo visto prima Adesso attacchiamo le nostre figurine sul nostro album Che non mi pare di averle trovate nel frattempo queste figurine Quindi sicuramente Le attacchiamo tutte Prima che abbiamo trovato il Real Madrid Ne va qui Ed è la numero 50 Che cosa potete vedere Manca sull'album Poi abbiamo la 110 Quindi andiamo avanti La 110 ce l'ho L'ho trovata nel frattempo ragazzi Quindi è doppione Poi abbiamo la 133 E questa ci manca Poi abbiamo la 182 Che l'abbiamo trovata Male 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 ragazzi Liverpool E Juventus Dove abbiamo la 242 Matuidi che mi manca Poi dobbiamo arrivare alla 425 E questa non l'ho trovata nel frattempo Poi la 447 Eccola Un'altra mancante Poi 469 Invece è il Nagatomo Del Galatasarai E 489 Per concludere Che ce l'ho doppione Ragazzi Per questo ce l'ho Mi manca Della Champions League 2018-2019 È tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti